La settimana prossima entreranno nel vivo le trattative per il nuovo allenatore del Giarre. Giulio Nirelli ha tre idee su cui con Alessandro Curcuruto sta lavorando e già nei prossimi giorni potrebbero esserci già i primi colloqui. Non è escluso che Giulio Nirelli possa sondare anche altre piste, anche se il favorito ad oggi resta Gaetano Di Maria, allenatore che quest'anno nel girone I di Serie D, nella seconda parte della stagione, ha allenato il Castro Villari, uscito sconfitto nel play-out con la Sarnese. Per il tecnico messinese si tratterebbe come noto di un ritorno sulla panchina giallo-blu dopo 11 anni. Tra l'altro quelle 2005-2006 fu una stagione magica per il Giarre, che arrivò in finale di Coppa Italia, che si salvò con largo anticipo in Serie D e lanciò nel calcio professionistico l'attuale bomber del Cittadella, Luca Litteri, che da Giarre spiccò il volo verso la primavera dell'Inter. Ma Di Maria valorizzò in quel campionato tanti giocatori, da Beppe Madonia a Giovanni Giuffrida, che negli anni seguenti hanno fatto tante presenze in Lega Pro.